Vi presentiamo questo nuovo modello di macchina per caffè espresso automatica, Saeco Minuto. Una macchina il cui claim principale è la sua grandezza è all'interno. Questo perché? Perché ha delle dimensioni estremamente compatte, è una compattezza unica nella sua fascia prezzo, con delle capacità molto elevate. Possiamo vedere un serbatoio acqua che contiene fino a un litro e otto di acqua, poi abbiamo un contenitore di chicchi freschi di caffè che contiene fino a 250 grammi di chicchi, con la possibilità anche di utilizzare il caffè in polvere, quindi già macinato. E poi abbiamo un contenitore per i fondi, che come vedete estraiamo frontalmente, che contiene fino a 15 fondi di caffè. La macchina è una macchina quindi che prepara la soluzione caffè espresso dai chicchi freschi di caffè, che vengono macinati all'istante da macine in ceramica ed erogano la soluzione caffè. Si può personalizzare a livello di intensità, quindi come potete vedere ci sono 5 settaggi per l'intensità di caffè che possono essere selezionati e memorizzati. Poi abbiamo la possibilità di preparare caffè lungo, qui è il settaggio per la preparazione dei caffè con chicchi o con polvere di caffè. Si può avere il vapore, quindi per realizzare cappuccini o caffè macchiato, acqua calda per bevande calde, pisane o tè e poi la spia di decalcificazione che avvisa quando è necessario o opportuno eseguire la decalcificazione. Questo è il pannarello con il quale si può per l'appunto preparare caffè macchiato o cappuccino. Questo naso è un naso in cui beccuccio può essere regolato sulla base della dimensione della tazza o della tazzina che si utilizza. Il display è LED con delle icone semaforiche, quindi verde quando la macchina è completamente in funzione e non necessita di manutenzione di alcun tipo. Il segnale rosso che vediamo ad esempio non appena apriamo il contenitore che mi segnala che la macchina ha qualche problema o comunque necessita di qualche azione da parte dell'utilizzatore. E infine arancione quando mi avvisa che c'è ad esempio una decalcificazione da fare. Vi mostro anche quello che è il vero cuore della macchina automatica che è il gruppo erogatore. Il gruppo che dopo aver macinato i peschi di caffè estrae il massimo dell'aroma ed il massimo del caffè per poi ottenere la soluzione finale di caffè espresso. Esso va manutenuto pulito, si può pulire con acqua corrente e sicuramente è l'innovazione della macchina ed è anche proprio il pezzo fondamentale inventato da Saeko nel 1985.